Il seno è il guardaroba di nostri pensieri, li appendiamo alle nuvole per sentirci più leggeri e poi chiudiamo gli occhi sperando che spariscono da soli. Dicono che con i se e con i ma non si va da nessuna parte, tutte balle. In verità è una questione di tempo, mettici vicino un verbo al passato e diventerà tempo sprecato. Usa il futuro e sarà il primo tassello di un sogno realizzato. Grazie a tutti! Grazie a tutti!